La bilancia, bellissima luna, transita nel segno dell'acquario che per voi ha a che fare con la vitalità, con le nuove storie d'amore, ha a che fare con la fortuna. Questa è una giornata fortunata che finalmente vi vede con un bel sorriso stampato sulle labbra, perché negli ultimi giorni siete stati un po' schivi, avete preferito stare bene per i fatti vostri, vi siete anche un po' isolati, vi sentivate al sicuro solamente tra le pareti domestiche e magari con i vostri familiari, questa luna vi fa uscire allo scoperto e devo dire, mettete in evidenza anche quelle che sono le vostre doti migliori di grande diplomazia, di eleganza. Ecco, una serata con una bilancia vedrà insomma una persona, una donna, un uomo, dato di grande charme, di grande fascia. Andiamo al segno dello scoperto.